amici di milan.soccer buona domenica ben alzati allora il primo pensiero è sempre al milan quindi grazie per essere qui sul nostro canale vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi farlo è semplice e gratuito così come un bel like un pollicione a questo video veri cuori rossoneri vi ricordo anche di attivare la campanella la campanellina per restare sempre aggiornati con noi io poi faccio questi gesti ma non so dove si trovano le cose ma voi siete più svegli di me quindi le trova lo troverete sicuramente allora beh c'è da dire c'è da dire che il milan in questo momento è veramente arrabbiato molto arrabbiato ciò nonostante ciò nonostante continua la sua attività sul mercato ci sono delle news noi quest'anno lo dico subito ci occuperemo del mercato ma ciò ce ne occuperemo in maniera meno diciamo così quotidiana perché perché non si possono sparare bombe per fare clickbait e poi non accade nulla l'anno scorso ci siamo cascati un po' tutti forse l'emozione la voglia sincera perché qui dietro si celano sempre salvo che poi non ci siano altri interessi ma non in canali come questo ci sono sempre cuori rossoneria quindi vorresti sempre vedere messi oppure non lo so un bappé certo è un momento storico complicato però quando c'è la possibilità perché se ve lo ricordate anche paolo disse in alcuni frangenti abbiamo seguito certi giocatori quindi comunque ci sono delle informazioni da dare e diverso è che come nel caso in cui alcuni contratti poi alla fine davvero non si riesca a chiudere quindi vedremo vedremo di gestirle in maniera un po' più come dire in maniera diversa tant'è vero che in queste ore si sta parlando di questo osservato speciale del Milan Giocheres è uno svedese insomma il Milan non ha una tradizione svedese perché ora ora oggi c'è Zlatan Ibrahimovi c'è il Milan per chi segue il calcio o meglio il Milan da sempre beh ce lo ricordiamo no il nostro su tutti ne dico uno è inutile che adesso li citiamo tutti il nostro Lidlm calciatore allenatore insomma però ecco diciamo che il Milan tiene d'occhio Victor Giocheres punta di diamante dello sporting della nazionale svedese viene non viene non lo sappiamo noi riportiamo fedelmente solo perché qualcuno scrive mai saputo che Giocheres tesori miei io l'ho saputo certo da saperlo a dirvi che è un giocatore del Milan se c'ho la notizia la dico se non ce l'ho ne so quanto voi meno sicuramente no non perché perché tutto il giorno tutti i giorni alla fine mi capita di tutto ecco solo per questo ci mancherebbe altro anzi però 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 ho scoperto la sua esultanza lui quando risulta fa così è uno che si è chiesto ma perché fa così questo beh diciamo che è un richiamo al mangia persone chi era il mangia persone ve lo ricordate il 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 film di Hannibal Lecter Victor mangia le difese lui dice questo Hannibal Lecter era colui che mangiava le persone un vecchio film è lui quindi a quella piglio visto dei video beh è abbastanza interessante devo dire che è molto interessante comunque c'è un'altra cosa che mi fa molto piacere e cioè il marchio di qualità che possiamo dire viene dato al Milan in questi giorni in queste ore un marchio di qualità è come se fosse un trofeo in più e cioè quello dei gol belli dopo il gol di Leao il gol di Reinders insomma il Milan sta facendo vedere delle pillole delle pillole che riportano un po' a questo a questa squadra che tanto è criticata avete visto anche il video di ieri insomma fatto discutere molto ma arriviamo alla questione che più ci interessa e cioè quella relativa alla copertina sì perché noi in copertina abbiamo diciamo così voluto da vi vogliamo dare un aggiornamento relativo all'ispezione non so come definirlo processo ispezione insomma quello che sta accadendo fuori dal campo nel Milan e c'è da dire una cosa importante insomma in queste ore ci risulta che il patron Jerry Cardinale sia molto arrabbiato molto arrabbiato e in un'intervista ha detto mi avevano detto che in Italia il sistema burocratico è un sistema che non ti permette di fare investimenti e quello è il motivo per cui spesso fondi importanti sono resti nell'investire sul nostro paese da una parte do ragione visto è considerato che ho vissuto all'estero nessun paese è così burocratizzato come il nostro dall'altra c'è da dire che ho paura che questa dichiarazione possa dire possa essere una dichiarazione veritiera e quindi tutti quei fondi quegli investimenti quei sogni che tutti fanno è perché se andate a vedere i forum piuttosto che canali youtube di altre squadre parlano di fondi arabi stanno arrivando insomma un po come un po di oppio digitale se vogliamo ecco sia un po di oppio digitale però in questo caso Jerry Cardinale ha fatto invece sapere un'altra cosa e cioè attenzione a dare dei giudizi sul Milan perché possono essere giudizi che poi vanno tutelati nelle opportune sedi ma non è solo questo quanto piuttosto il fatto di non sapere che tipo di programmazione bisogna fare di non sapere se comunque giocherai o non giocherai quella coppa se comunque avrai o non avrai punti di punti di penalizzazione insomma sono tanti i punti interrogativi e allora ritorna in ballo la famosa superlega ho letto due articoli molto interessanti e sono articoli interessanti che ci dicono che c'è un malcontento diffuso soprattutto in quelle squadre che la 22 per intendersi la società spagnola che gestisce la superlega vorrebbe all'interno della stessa superlega ecco in questo caso c'è da dire che il Milan ha già detto un mese e mezzo fa all'incirca che non è interessato alla superlega ma oggi ci sta pensando perché perché se questo è il modo di agire della federazione se questo è il modo di agire della UEFA tanto vale che il Milan si tuteli e faccia visto è considerato che è una cultura tutta americana avere più federazioni chiamiamole così e quindi più ambiti in cui una squadra può iscriversi ecco in questo caso diciamo che il Milan non chiude più a doppia mandata la porta alla superlega diciamo che una mandata è sempre chiusa ma un giro di chiave l'ha fatto perché dice giustamente se nelle prossime settimane non si dovesse risolvere la questione noi siamo comunque investitori non possiamo perdere del tempo dietro a queste faccende e quindi visto che c'è un'alternativa e questa alternativa porta anche dei nomi e dei cognomi importanti perché dentro ci sono Barcellona Real Madrid e allora non lo so ci pensiamo ci pensiamo un secondo di più anche se la porta per ora rimane chiusa va bene gli aggiornamenti quindi sono che il Milan ha dato sicuramente prova che non c'è nulla dietro a quel tipo di ipotesi di reato ma che al contempo è titubante rispetto ad un atteggiamento verso la propria la propria identità sportiva e per questo l'alternativa superlega potrebbe ritornare in ballo vi auguro una buona mattinata buona domenica ma tanto ci vediamo più tardi ciao ciao